Salve a tutti, buongiorno, benvenuti. Siamo all'interno della Milano Digital Week 2023, questo appuntamento ormai annuale con l'innovazione digitale e in questo contesto siamo a bordo del tram dell'innovazione, un evento organizzato da Women in Tech. Cos'è il tram dell'innovazione? Un luogo in mobilità nel quale gli ospiti possono ascoltare le esperienze e le testimonianze dei protagonisti della trasformazione digitale, tutto questo nel metaverso. Quindi ancora benvenuti e vi voglio presentare l'ospite di questa mattina che è Alessandra Grendele, che è Chief Digital Officer di Carrefour. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, ecco, uno si potrebbe chiedere cosa c'entra la grande distribuzione organizzata in supermercato con il digitale, la digitalizzazione. Parlando con Alessandra capiremo che c'entra tantissimo. Allora, innanzitutto Alessandra, io vorrei capire come sei arrivata a ricoprire questo ruolo all'interno dell'azienda e quali sono le tue manzioni. Sì, grazie, grazie Luciana. Di nuovo buongiorno a tutti. È davvero un'emozione essere qua in questa esperienza unica della Milano Digital Week. Sono Chief Digital Officer di Carrefour. Vi racconto molto velocemente come sono arrivata a ricoprire questo ruolo. Ho 48 anni, sono laureata in ingegneria e sin dall'inizio del mio percorso professionale ho lavorato nel mondo della tecnologia e dei dati in un settore molto diverso da quello del retail perché ho lavorato 20 anni nelle banche. Dapprima in una delle più grandi realtà italiane dove ho imparato il rigore e il valore dei dati per il business e poi, grande opportunità, sono entrata a far parte di una start-up la prima banca multicanale italiana che banca è stata un'esperienza unica che mi ha insegnato a uscire dalla zona di comfort e puntare molto sull'importanza della customer experience. Questo è stato, se devo riassumere, quello che è l'insegnamento più grande di questa esperienza. A marzo del 2019, nonostante, ovviamente potete immaginare quanto sia stato difficile per me lasciare una realtà dove ho partecipato da start-up persin dall'inizio, ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale in un'industria molto diversa dal punto di vista dell'offerta ma ovviamente quando si parla di tecnologia e dei dati ci sono molte affinità tra le diverse realtà. Spinta principalmente per portare la tecnologia e i dati al servizio dei consumatori e soprattutto per pensare, poter agire, avere un impatto e costruire un futuro più sostenibile per noi e per il nostro ambiente. Bene. Ecco allora, dopo aver capito un po' questo tuo percorso che, come dicevi tu, è sempre stato fatto attraverso il mondo tecnologico, delle tecnologie innovative, io ti chiedo come si sta trasformando Carrefour nel mondo digitale e appunto quale ruolo gioca l'innovazione tecnologica e la strategia digitale in questo processo? Carrefour è una realtà, molti di voi sicuramente la conoscono molto bene, è una realtà che nasce multiformato. Abbiamo gli ipermercati, i supermercati, i negozi di prossimità, anche il cash and carry, quindi nasce sin dalle origini multiformato e da diversi anni anche online con l'e-commerce e quindi ha preso una forma importante dal punto di vista dell'omnicanalità dove, potete ben immaginare, tecnologie e dati giocano un ruolo fondamentale, fondamentale per liberare ancora di più il potenziale omnicanale che è in tutti gli effetti nel nostro DNA. E qui quindi ecco perché da retailer a Digital Retail Company che è l'annuncio che abbiamo fatto oramai due anni fa, una grande ambizione, quello di portare davvero il digitale e i dati al centro della nostra strategia con l'obiettivo di offrire i migliori servizi ai nostri clienti e ripensare il modo di lavorare. Diventare una Digital Retail Company significa di fatto mettere il cloud, i dati, lavorare molto sulle architetture applicative e soprattutto puntare su quattro grandi pilastri. Il primo è, come vi dicevo, l'e-commerce e l'omnicanalità per una più ampia offerta ai nostri clienti. Portare il digitale all'interno dei nostri punti di vendita, avere i dati come grande valore perché ci consentono di trasformare il nostro modo di lavorare e il quarto pilastro importantissimo è quello del mindset, una cultura digitale, bisogna infondere una cultura digitale. Se devo dare come un primo, diciamo, importante elemento che ha tracciato il nostro percorso verso la Digital Retail Company è stata la partnership siglata nel 2018 con Google. Ma ovviamente Google per noi significa cloud, significa dati, significa modo di lavorare molto più collaborativo, ma ci tengo a sottolineare un aspetto che è un aspetto molto di mindset e culturale. Da Google abbiamo imparato a pensare, loro lo chiamano per dieci, quindi pensare avendo un impatto rilevante sul business. E a distanza di anni, quello che vi posso dire, che questo modo di pensare con sperimentazione, test and learn, ci ha portato a degli ottimi risultati. Abbiamo avuto un per dieci in termini di utilizzatori dei dati in azienda, un per tre, che è comunque molto rilevante, in termini di velocità di trasformazione digitale. E quindi per noi è fondamentale avere questo obiettivo, la Carrefour 2026, la Digital Retail Company. Benissimo, senti, un trend del momento è la sostenibilità. Le aziende che sono solo tecnologiche, che fino a ieri si ritenevano solo tecnologiche, capiscono che non possono fare a meno di essere sostenibili e quindi di avere un impatto positivo sul pianeta. Le organizzazioni che si occupavano di ambienti e di ecologia sanno che è indispensabile utilizzare strumenti digitali e tecnologici. Allora sicuramente anche Carrefour ha delle politiche di sostenibilità. Ecco, io vorrei capire da te quali sono e come vengono applicate. Tra l'altro è un settore tradizionalmente ad alto consumo di carta, quindi ecco, come applicate strategie di sostenibilità in Carrefour? Grazie per la domanda, Luciana, perché è importante per me sottolineare innanzitutto che la missione di Carrefour, ci siamo dati una missione e l'abbiamo chiamata la transizione alimentare. In inglese si chiama Act for Food, che sottolinea l'importanza di mettere in campo azioni concrete. Transizione alimentare per noi significa offrire ai nostri clienti prodotti di qualità ad un prezzo accessibile a tutela del nostro ambiente. Quindi, se vogliamo, una missione molto, molto ambiziosa, ma sentiamo forte questa responsabilità perché come azienda della GDO siamo al centro della filiera. Da un lato abbiamo i nostri fornitori, dall'altro abbiamo i nostri clienti, consumatori e noi, con i nostri punti di vendita, noi tutti i collaboratori, abbiamo un ruolo importante. Il digitale è legato a doppio filo con questa missione. Prima vi dicevo della Digital Retail Company, noi la consideriamo il modello per raggiungere la nostra ambizione dell'Act for Food mettendo in campo al servizio dei nostri valori, della nostra missione, proprio la tecnologia e i dati. Parlavi di consumo di carta ed è indubbiamente uno dei primi grandi nostri azioni su cui stiamo lavorando concretamente. Vi faccio tre esempi. Consumo di carta nella realtà della GDO significa, ad esempio, in maniera abbastanza evidente, tutto il mondo dei volantini, volantini cartacei. Ma anche, e questo magari si vede meno perché è un po' più dietro le quinte, anche la grande quantità di carta che viene stampata tutte le mattine, veniva stampata tutte le mattine nei nostri punti di vendita. Abbiamo lavorato intensamente negli ultimi tre anni per digitalizzare i processi all'interno dei punti di vendita, che significa un miglior modo di lavorare per i nostri colleghi, ma anche un'importante riduzione di carta. Tra processi interni e volantini cartacei risparmiamo qualcosa come 9.000 tonnellate di carta all'anno. e questo, diciamo, è già un primo risultato concreto di beneficio. L'altro importante elemento quando parliamo di sostenibilità, è un tema estremamente rilevante, è lo spreco alimentare. Lavoriamo da anni per ridurre lo spreco alimentare, anche in questo caso sentiamo forte la nostra responsabilità e il digitale come viene in aiuto in questo caso. Abbiamo, ad esempio, sviluppato un'applicazione per gestire in modo più puntuale le scadenze dei prodotti ed evitare che vadano in scadenza e poi vengano, ahimè, buttati. Abbiamo lavorato per primi in Italia con la start-up Too Good To Go, che sicuramente molti di voi conoscono, che trasformano i prodotti prossimi alla scadenza in magic box. E anche il cloud stesso, se vogliamo, è un orizzonte, se vogliamo, molto più tecnologico, ma che ha un impatto in termini di efficienza energetica molto meno impattante sull'ambiente. In termini di riduzione di spreco alimentare, abbiamo risparmiato fin qua, abbiamo salvato 2.000 tonnellate di cibo, quindi probabilmente se guardiamo lo spreco alimentare come grande problema a livello mondiale, 2.000 tonnellate sono una goccia nel mare dello spreco, ma dobbiamo tutti dare il nostro contributo concreto. Sempre parlando di sostenibilità, anche l'e-commerce offre tantissime chance. Di recente abbiamo lanciato, ad esempio, gli eco-slot, ma potrei fare tantissimi esempi in questo ambito. Cosa sono gli eco-slot, esattamente? Gli eco-slot sono un'opportunità, un'opzione che il cliente ha quando alla fine dei suoi acquisti online sta scegliendo la modalità di consegna e anche la fascia oraria di consegna. Siamo sempre stati tutti molto, diciamo, spinti a cercare di dare il servizio più rapido, più concentrato, migliore per il cliente, e quindi lo slot che era disponibile era solo ed unicamente quello di una consegna entro due ore, ad esempio dalle 10 alle 12. Abbiamo deciso di spingerci un po' oltre, abbiamo aperto i cosiddetti eco-slot con una consegna, con una fascia oraria di 4 ore, quindi dalle 10 alle 14. E' stato sorprendente vedere quello che è stato passa attraverso la consapevolezza dei consumatori, una scelta che si è spostata in maniera molto significativa verso questi eco-slot. Non offriamo vantaggi particolari, ma sensibilizziamo i nostri clienti a scegliere queste modalità di consegna che per noi significa ottimizzare i trasporti, avere meno furgoni che vanno a consegnare la merce e pensa Luciana che noi assieme alla Francia siamo stati i due primi diciamo pionieri in questa nuova modalità di consegna, in pochi mesi abbiamo risparmiato qualcosa come l'equivalente di due giri della terra di emissioni di CO2. Ma qua la cosa importante è la sensibilità crescente da parte dei consumatori. Esatto, sono richieste che arrivano da parte dei consumatori, cercano soluzioni più sostenibili, cercano anche prodotti più sostenibili, quindi un'azienda che vuole andare avanti e che vuole restare competitiva deve portare avanti delle azioni di sostenibilità come quelle che sta portando avanti Carcor. Per farlo usate strumenti come l'intelligenza artificiale, come l'analisi dei dati. ecco, questi strumenti, l'intelligenza artificiale, data analytics, l'uso dei dati, servono anche a promuovere l'inclusione, che è un altro dei temi del nostro tempo, l'inclusione tra tutti, tra i collaboratori, tra i giovani assunti. Assolutamente sì, perché quando parliamo di sostenibilità sono diversi, diciamo, i pilastri su cui lavoriamo, sui prodotti che scegliamo, che devono essere sostenibili, su appunto la sostenibilità del modo di lavorare nei punti di vendita, ma altrettanto importante ovviamente è lavorare in termini di inclusione, rispetto delle diversità per tutti i nostri collaboratori e non solo. Se mi chiedi cos'è per noi inclusione, ti risponderei con, diciamo, magari due ambiti, perché inclusione si rivolge anche al consumatore finale e proprio grazie alla tecnologia, ai dati e dove serve anche, dove è utile l'intelligenza artificiale, riusciamo ad offrire ai nostri consumatori delle soluzioni che sono per loro inclusive appunto. Ti faccio l'esempio sempre sull'e-commerce. L'e-commerce ovviamente è un'area dove riusciamo ad esprimere al meglio anche la tecnologia, i dati, l'uso dell'intelligenza artificiale. Abbiamo, assieme al governo, lanciato un'iniziativa molto significativa, cioè la possibilità di avere una consegna gratuita dell'acquisto e-commerce per tutti i clienti che hanno la carta della disabilità. Parliamo di circa due milioni in termini di popolazione italiana e quindi significa per loro avere accesso in modo più sostenibile, accessibile ad un servizio di valore che per loro è ovviamente un servizio, oltre che l'acquisto di per sé dei prodotti. Ma come dicevo inclusione significa anche includere in questo percorso di trasformazione digitale tutti i nostri collaboratori. Parliamo di 12 mila collaboratori in Italia che noi abbiamo tutto l'interesse, la volontà e sentiamo la responsabilità di accoglierli in questo percorso di trasformazione digitale. Non si diventa una digital retail company se non si crea una cultura digitale all'interno dell'azienda. Abbiamo per questo creato un'academy interna che si chiama Digital Retail Academy che ha l'obiettivo di formare il 100% della popolazione ai temi digitali con diciamo degli approfondimenti sulla tecnologia, sui dati, sul mindset e molto altro. Veramente molto ricca di contenuti che vengono resi disponibili ai nostri collaboratori anche in funzione del ruolo che rivestono. Ovviamente chi si occupa di controllo di gestione avrà bisogno di certi contenuti, i colleghi dei punti di vendita che per noi sono ovviamente la parte più rilevante della popolazione hanno necessità di avere altre forme di formazione digitale. Abbiamo deciso per questo di lanciare un contenuto che si chiama Tutti Digitali in una forma un po' più giocosa in forma di gamification per avvicinare i concetti del digitale facendo immaginare i nostri collaboratori di essere una tipica famiglia italiana che deve fare i propri acquisti e che utilizza il digitale in diverse forme per trovare massima soddisfazione. Qua è facile trovare il link poi tra la vita privata ovviamente e la vita come collaboratore di Carrefour in pochi mesi siamo partiti all'inizio di quest'anno abbiamo già formato 5.000 collaboratori basta questo? Sicuramente no diciamo è un percorso è l'inizio una delle tante etappe che stiamo che stiamo facendo per diciamo promuovere il digitale i dati l'intelligenza artificiale mi viene da citare una frase che ho sentito dire pochi giorni fa da Guido Scorza che è all'interno della commissione del garante della privacy perché quando si parla di intelligenza artificiale lo sentiamo dall'inizio di quest'anno ci sono tanti argomenti che ruotano intorno e lui ha detto forse è arrivato il momento di educare le persone ad usare l'intelligenza artificiale e non educare l'intelligenza artificiale a replicare i comportamenti delle persone e credo che questo sia fondamentale e per me dietro qua c'è anche un tema di inclusione assolutamente sì quindi voi state facendo quello che si definisce in gergo tecnico reskilling o upskilling cioè state contribuendo a formare i vostri collaboratori e giustamente insomma a formarli anche nel rispetto delle norme perché come come dicevi tu effettivamente ci sono opportunità ma anche diversi rischi dall'uso dell'intelligenza artificiale ecco parlando dell'intelligenza artificiale di tecnologie noi siamo nel metaverso in questo momento il metaverso è questo concetto tuttora in evoluzione tuttora al centro di osservazioni analisi a volte critiche voi però ci avete creduto fin dall'inizio perché Carrefour qualche tempo fa ha addirittura acquistato dei terreni sul metaverso ecco come come utilizzate questo strumento e per quali appunto per quali scopi sì era proprio gennaio del 2022 quando Carrefour ha acquistato il primo terreno nel metaverso ma diciamo ovviamente era più per cominciare ad entrare in uno spazio in uno spazio tecnologico un trend che merita di essere sicuramente osservato un'altra tappa importante è stato a maggio sempre del 2022 in cui abbiamo promosso la prima vendita di NFT delle nostre NFBiz che sono andate a ruba in pochissime ore e diciamo la volontà di questa iniziativa era quella di raccogliere fondi da reinvestire in progetti con finalità di sostenibilità quindi era senza scopo di lucro ma per cominciare anche in questo caso a sperimentare trovare un'altra via per raccogliere fondi per promuovere il nostro programma di transizione alimentare a luglio del 2022 con un partner dell'industria una gamification che legava questo gioco all'acquisto e-commerce e così via abbiamo continuato a fare diciamo piccole iniziative di sperimentazione perché questo mi porta un po' a raccontare che cos'è per noi il metaverso è uno spazio di innovazione di sperimentazione dove stiamo andando con un approccio test and learn a iterare diciamo delle iniziative per scoprire quali possono essere diciamo gli sviluppi gli sviluppi futuri probabilmente l'area che in questo momento sta e che se vogliamo un po' rispecchia anche il luogo in cui siamo oggi che sta avendo più più progresso è proprio nel mondo dell'HR della formazione abbiamo fatto un primo reclutamento all'interno del metaverso la stiamo utilizzando per corsi di formazione anche internazionali perché potete immaginare come lavorare in una realtà come il gruppo Carrefour che dà grandi opportunità perché siamo una realtà internazionale è sempre più difficile per noi poter essere fisicamente assieme quindi avere un corso di formazione in uno spazio come quello del metaverso rende sicuramente più avvolgente il percorso di formazione stesso quindi per noi il metaverso lo leggo un po' a quella che è la nostra attitudine a sperimentare noi evitiamo il tech for tech cioè non ci piace pensare che la tecnologia sia fine a se stessa ma per poter dare un valore alla tecnologia la sperimentazione è essenziale per noi sì penso che in questo momento il metaverso sia sperimentazione quindi giustamente voi lo state come dire sviluppando proprio in questo senso guarda Alessandra abbiamo trattato tanti temi interessanti appunto dalle tecnologie alla sostenibilità all'inclusione ti vorrei fare un'ultima domanda molto pratica siamo donne dicono che siamo a volte un po' più pratiche dei nostri degli uomini non lo so se sia vero comunque io sono una una persona che entra in un supermercato Carrefour a comprare patate mele pasta e latte in cosa mi accorgo da cosa mi accorgo che è una una realtà digitale cosa cosa mi favorisce cosa mi dà di più e se riesco a cedervi domanda molto molto interessante e calzante perché è un po' diciamo la sintesi del nostro del nostro percorso di trasformazione digitale noi osserviamo i comportamenti dei consumatori e lo vediamo anche dalle analisi di mercato i consumatori sono sempre più digitali da una parte e l'altra cosa interessante è sempre più attenti alla sostenibilità quindi anche il mercato il mercato della diciamo dei consumatori del largo consumo in Italia conferma questo questo trend di digitalizzazione e di attenzione alla sostenibilità e se vuoi è esattamente in linea con i nostri valori e il nostro modo di di agire il digitale il digitale non inizia all'interno del punto di vendita questa forse è un po' la chiave di per la risposta il digitale e conoscere Carrefour inizia digitalmente al di fuori della delle mura del nostro punto di vendita ci piace pensare al nostro negozio come un negozio senza barriere senza confini e quindi scoprire digitalmente Carrefour attraverso la nostra app sul sito con tutte le interazioni che possono diciamo essere essere disponibili è un modo per arrivare in punto di vendita con maggiore consapevolezza questo è il primo aspetto per noi per noi molto importante poi ovviamente all'interno del punto di vendita quando l'esperienza di acquisto che molto spesso e lo vediamo inizia digitalmente fuori dalle mura del negozio in punto di vendita la presenza di la chiarezza ad esempio dei prezzi delle informazioni sui prodotti con le etichette elettroniche la presenza di casse per l'acquisto diciamo self il self check out che per quei clienti che hanno quel grande desiderio di fare la spesa velocemente diventa un valore un valore molto importante ma ricordo Luciana che ci sono anche clienti che invece preferiscono andare in cassa le abbiamo chiamate le casse bla bla perché diciamo ci sono anche quel tipo di consumatori che invece il punto di vendita lo vivono come un momento di interazione umana e per noi questo è estremamente importante viaggiare e cercare di soddisfare i bisogni di tutti i clienti ti parlavo dell'app to go to go è un altro modo per attraverso attraverso l'app contribuire contro controllo spreco alimentare e molto molto altro diciamo che nel nostro percorso per diventare una digital retail company il cliente e i nostri punti di vendita sono al centro della della strategia e il digitale i dati il mezzo per per raggiungerli con un'esperienza di acquisto la più omnicanale fluida e ovviamente avvolgente nel percorso di acquisto stesso benissimo io ti ringrazio Alessandra per questa conversazione davvero interessante ringrazio il tram dell'innovazione direi a questo punto ci vediamo tutti a car per chi nel corsia bla bla chi ha più fretta va nel self check out e spero ovviamente di rivederti e di sentirsi perché è sempre interessante parlare con te di come la digitalizzazione sta trasformando la grande distribuzione la grande distribuzione organizzata e il retail in generale grazie grazie mille ciao a tutti grazie alla prossima grazie a tutti